Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che sono attiva su Facebook, trovate il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il 24 agosto del 2019, una giovane donna viene portata ad urgenza, al pronto soccorso. Carabinieri e gli operatori sanitari l'hanno trovata in un garage e le sue condizioni sono gravissime, infatti morirà in ospedale. Ma facciamo un passo indietro. Questa è la storia di una ragazza che vive una relazione in cui nulla è definito. Una storia dove il possesso è il filo conduttore che lega la donna al suo amato. Una storia che non vede mai la luce del sole perché si tratta di un rapporto clandestino. Tutto ha inizio in un negozio di casalinghi di nome Spendi Bene in via Primicello a Copparo, un comune di 15.662 abitanti della provincia di Ferrara, in Emilia Romagna. Il negozio è di proprietà di Saverio Cervellati, di 46 anni, che sta cercando una commessa. Così Cinzia Fusi, di 28 anni, si reca lì per un colloquio di lavoro. Saverio l'assume, anche perché l'arrivo di Cinzia nella vita semplice e abitudinaria dell'uomo è come un fulmina ciel sereno. Tra i due ci sono 18 anni di differenza, ma Saverio è subito conquistato da lei. Ma chi è Cinzia? Cinzia nasce in un piccolo centro in provincia di Ferrara ed è una bambina molto sveglia, dolce e simpatica. È figlia unica ed è la gioia dei suoi genitori. La mamma, Maria, è una sarta. Il papà, Roberto, lavora come operaio. Ed è proprio con quest'ultimo che Cinzia stringe un rapporto speciale fin da piccola. Una volta cresciuta, Cinzia viene descritta come una donna dal carattere molto forte. Se voleva qualcosa, lo teneva. Sembrava non avesse paura di nulla. Cinzia è una persona molto riservata e a volte non si apre neanche con le amiche. Ma con i suoi genitori continua ad avere un rapporto speciale, a coltivare un legame quasi simbiotico che la porta a essere molto presente anche in età adulta. Il suo mondo è la sua casa. Lei ama stare con i genitori, parlare con loro. L'educazione con cui è cresciuta ha generato la sua predisposizione ad accudirli e la rende in generale una persona empatica, disponibile e premurosa. Il legame di Cinzia con i genitori influenza anche la sua vita sentimentale, tanto che pur di non lasciarli soli, decide di interrompere la relazione con il suo fidanzato storico. Nella vita di Cinzia c'è anche una cagnolina di nome Chloe. Dunque, la madre, il padre e Chloe rappresentano per Cinzia una bolla rassicurante. La ragazza abita a Cologna, una frazione di Berra, in provincia di Ferrara. Tornando a Saverio, lui è molto riservato e introverso. È sposato da vent'anni con Mina e la coppia ha due figli, Lorenzo ed Elena. La vita di quest'uomo di mezza età è semplice e abitudinaria, divisa tra lavoro e famiglia. Saverio appare remissivo e molto docile. Il suo è un matrimonio di lunga durata, improntato soprattutto sull'accudimento dei figli. Saverio li ama profondamente, stravede per loro. La sua vita è dedita al sacrificio e probabilmente è proprio questo aspetto a porsi come primo punto d'incontro tra lui e Cinzia, che si tratti di figlio di genitori e entrambi mettono al primo posto gli altri. In una vita dai ritmi monotoni, dove tutto scorre senza grandi scossoni, un piccolo cambiamento non passa inosservato. Mina infatti si accorge che suo marito Saverio mette più profumo del solito, che non la guarda più negli occhi quando le parla, anzi, la evita proprio. Ogni mattina Saverio esce di casa e chiudendo quella porta si lascia alle spalle una vita quotidiana dalla quale vuole evadere. Adesso sa che quando arriva in negozio ad attenderlo c'è Cinzia, la nuova commessa. Cinzia è giovane e piena di vitalità. Starle accanto regala a Saverio un'energia nuova. Con Cinzia proprio come fa con i figli, Saverio diventa accudente e gentile. Saverio infatti la descriveva come la sua regina. Una regina che lui doveva assolutamente servire in tutto e per tutto. Le numerose attenzioni di Saverio, il quale permette a Cinzia anche di avere orari di lavoro piuttosto elastici, ottengono il risultato sperato. La ragazza infatti si lega molto a lui. Per Saverio Cinzia è la donna perfetta. Per Cinzia invece quell'uomo più grande di lei di quasi vent'anni rappresenta un porto sicuro e la persona premurosa a cui confidare le difficoltà della vita. Presto il loro legame assume i caratteri di una relazione simbiotica, in un certo senso asfittica, perché è relegata al piccolo ambiente in cui si consuma. Saverio e Cinzia infatti vivono il loro amore nello spazio angusto di un negozio di casalinghi, al riparo da sguardi indiscreti e dai mormori della gente del paese. Cinzia non racconta ai genitori della storia con Saverio, non se la sente di confessare che frequenta un uomo sposato, anche perché sa che suo padre non lo avrebbe mai accettato in casa. Cinzia di conseguenza inventa tantissime scuse, dice ai suoi genitori che esce con delle amiche, che va al mare, ma in realtà è sempre insieme a lui. Lo stato di segretezza di questa relazione viene alimentato da entrambi nel tentativo di ricreare una realtà in cui trovare rifugio lontano da queste vite dedite al sacrificio e all'accudimento degli altri. Di certo questa situazione di clandestinità ha impedito alle persone vicine a Saverio o a Cinzia di dar loro indicazioni o suggerimenti, di star loro accanto. Purtroppo questa condizione di chiusura ha alimentato un'intesa irragionevole ed estrema. Il sentimento di Saverio verso Cinzia, infatti, ben presto diventa ossessione. Saverio vive ormai due vite, una di giorno scandita dagli obblighi e rispettosa delle apparenze, un'altra di notte dedicata agli incontri con Cinzia. L'uomo, che in pratica ha messo fine al matrimonio, anche se vive ancora con la moglie, finisce di lavorare verso le 19.30, poi va a casa, cena con i figli e aspetta che si addormentino verso le 22.30-23, stando loro accanto. Dopodiché prende la macchina e va a casa di Cinzia. Saverio, pur di incontrare la donna che ama, è disposto a correre qualsiasi rischio. Cinzia di notte lo accoglie nel giardino di casa e lo fa arrampicare fino ad arrivare alla sua finestra. Lo fa entrare nella propria camera e i suoi genitori non si accorgono di nulla. La mattina, alle prime luci dell'alba, dopo aver trascorso qualche ora con Cinzia, Saverio torna alla sua realtà. Riparte in macchina e torna a casa sua perché suo figlio, quando si sveglia, lo deve vedere. Saverio si occupa di organizzare la colazione, lo aiuta a prepararsi e poi torna al lavoro dove ad attenderlo c'è di nuovo Cinzia. Questa è la routine che la coppia porta avanti per sei anni. Saverio per tutto questo tempo dorme al massimo circa quattro ore a notte. Io credo che un ritmo così stancante, protratto tanto a lungo, l'abbia letteralmente sfinito anche dal punto di vista psicologico. Come già detto, Saverio e Cinzia vivono il loro amore isolati. Chiusi in un'ampolla in cui non c'è spazio per nessun altro. Ma presto le pareti di questa ampolla iniziano a scricchiolare perché nella relazione emergono difficoltà e conflitti. Saverio è geloso. Controlla Cinzia, la osserva mentre si muove tra gli scaffali del negozio, verifica i tabulati telefonici della scheda aziendale a lui intestata. Cinzia, in risposta, non se ne sta zitta, anzi a volte lo rimprovera. Sei troppo ossessivo, possessivo, opprimente. Tuttavia, Saverio è ossessionato dall'idea che Cinzia passa a conoscere un ragazzo più giovane. Chiunque rappresenta una minaccia alla stabilità del loro rapporto, persino due parole che Cinzia scambia con un cliente, scatenano rabbia e risentimento nel suo compagno. Sono ormai passati diversi anni dall'inizio della relazione. Cinzia e Saverio passano ancora tutta la giornata nel negozio e non condividono altri spazi. La gelosia di Saverio sembra però sotto controllo. La coppia è vero, ha qualche diverbio, ma parlando si risolve tutto. Ogni notte, quando sua moglie si addormenta, Saverio continua ad alzarsi dal letto e a uscire di casa per raggiungere Cinzia. Inizialmente, tra bugie e fughe notturne, Saverio faceva di tutto perché Mina non si accorgesse dei suoi tradimenti. Ma quest'ultima, che di certo non è stupida, se ne era resa conto e come. Mina aveva provato più volte a seguire Saverio, ma lo aveva sempre perso di vista. Non riusciva a capire dove fosse diretto, ma intuiva perfettamente la situazione. Suo marito la stava tradendo. Finché, una volta, Saverio, rientrato a casa di mattina, aveva trovato un biglietto di Mina in bella vista nella cucina, con scritto «Tanti indizi fanno una prova, dimmi la verità, è un'altra donna?» Saverio ora sapeva che il castello di menzogne costruito per anni era crollato. Aveva affrontato sua moglie chiedendole il significato di quel biglietto. Mina gli aveva chiesto, semplicemente, di essere sincero per una volta, sottolineando che era consapevole del fatto che lui si alzasse ogni notte per andare dall'amante. Saverio si arrampica sugli specchi, dando spiegazioni poco plausibili, dicendo che si allontanava di notte per questioni di lavoro, come scaricare la merce. Mina, però, sapeva di ascoltare delle grandissime balle, pure poco realistiche. Alla fine il marito era crollato, ammettendo che, sì, c'era un'altra donna nella sua vita, ma negava che si trattasse di Cinzia, menzionando piuttosto una certa Chiara. Mina, però, sospettava da sempre che l'amante di Saverio fosse proprio la commessa del suo negozio. Saverio, a questo punto, aveva recuperato alcune cose ed era andato a dormire in uno sgabuzzino nella sua bottega. Però aveva preso una decisione, evitare di tagliare del tutto i contatti con sua moglie, così come con Cinzia. Saverio, come detto, continua a tornare a casa per stare vicino ai figli e, inevitabilmente, vede anche sua moglie Mina. La donna, però, una sera insiste per capire se l'amante del marito sia Cinzia e non la ragazza di nome Chiara, di cui lui le aveva parlato. Basta poco a Mina per avere conferma dei suoi sospetti e quella sera, tra le due donne, nasce una discussione. Mina urla, si infuria, poi se ne va e Saverio la segue. Cinzia si ritrova così da sola e capisce che forse Saverio non diventerà mai il suo compagno ufficialmente. Quando per anni sei l'altra donna, cioè l'amante, ti abitui a startene nascosta in attesa che si compia la promessa per cui, prima o poi, uscirai dall'ombra. Ti abitui a trascorrere il Natale sempre da sola e i fine settimana aspettando una telefonata che non arriva. Quando sei l'altra donna di un uomo, vivi con la speranza che presto o tardi sarete una coppia che si mostra alla luce del sole. Quella sera, però, in Cinzia sopraggiunge una consapevolezza. Ha impiegato male interi anni di vita e i suoi sentimenti. Non ha fatto la scelta giusta, riflettendoci da inescandescenze e rompendo parecchi articoli presenti in negozio. Quando Saverio ritorna, i due hanno un violento litigio. L'uomo non vuole abbandonare la sua famiglia, soprattutto i suoi figli. Saverio, rimasto da solo, cerca di rimettere insieme i cocci in frantumi della sua vita. Dopo questo episodio, il rapporto tra Cinzia e Saverio attraversa una crisi profonda. Cinzia, per la prima volta in sei anni, guarda in faccia alla realtà e capisce che il suo legame con Saverio non ha futuro. Così si guarda intorno e si accorge che tutti questi anni di relazione con quell'uomo le hanno lasciato attorno il deserto. Cinzia glielo dice, gli rinfaccia che stare con lui le ha fatto perdere i rapporti con tutti. Sente che questo è il momento di cambiare strada. Vuole ripartire, rincominciare. Cinzia man mano riconquista il suo spazio di libertà, ma non è facile farlo perché continua a lavorare nel negozio di casalinghi dove incontra Saverio tutti i giorni. Nelle settimane successive alla rottura, Cinzia allarga le sue amicizie e tramite i social network conosce un altro uomo. Nel tempo lo sguardo di Cinzia su Saverio cambia. L'uomo ora le appare severo, controllante e giudicante. Infatti la sua reazione non si fa attendere. Dopo la decisione di Cinzia di troncare il rapporto sentimentale, Saverio esercita su di lei un controllo ancora più invadente e ossessivo. Saverio, che ha perso tutto, non vuole perdere anche Cinzia, la donna per cui ha messo in crisi il rapporto con sua moglie e la sua famiglia. Inoltre non sopporta l'idea che nella vita di Cinzia ci sia spazio per altre persone, non riesce ad accettare che lei possa ricrearsi un futuro dopo aver chiuso con lui. Iniziano sei mesi di fuoco in cui il controllo messo in atto da Saverio su Cinzia si estende anche ai social network. Lacerato dal pensiero che lei abbia conosciuto un altro uomo, Saverio si infiltra nei profili di Cinzia di cui conosce le password. Poi fa una ricerca per capire come riuscire a leggere i messaggi del cellulare aziendale, cioè quello che Cinzia usa per lavoro. Arriviamo all'agosto del 2019, Saverio ha 52 anni e Cinzia 34. In quel periodo il rapporto tra i due è sempre più teso. Lui, come detto, la controlla costantemente attraverso le piattaforme social e sa tutto di lei, con chi ha fatto amicizia e con chi esce. Al contrario, Saverio è sempre più ripiegato su se stesso, pieno di rabbia. C'è un solo pensiero fisso rivolto a Cinzia che tormenta le sue giornate. Io per te ho rinunciato alla mia famiglia. E tu? A cosa hai rinunciato tu per me? Tu non puoi lasciarmi dopo che io ho lasciato tutto per te. Cinzia si trova in una situazione difficile. Siccome ha bisogno dello stipendio, continua a lavorare nel negozio di Saverio. Ma questa vicinanza forzata non fa altro che alimentare il risentimento tra i due. Saverio quindi l'affronta dicendole che sa che lei è uscita con un altro uomo. Cinzia non crede di dover tenere nascosta questa frequentazione. Quindi risponde sì, sto uscendo con un altro uomo. Saverio a questo punto le mette le mani addosso, chierandole due schiaffi. Lei reagisce graffiandolo in viso. Lui esce dal negozio, si precipita verso una macchina e chiede aiuto dicendo esattamente aiuto chiamate i carabinieri fermatemi. In quella macchina c'è una donna che accorre verso il negozio e appena vede Cinzia capisce che la situazione è delicata. Decide così di non lasciarla sola bensì di aiutarla. Su un foglietto le scrive il numero utile per contattare il centro antiviolenza più vicino ossia il 1522. Le chiede in disparte se è il caso di chiamare i carabinieri e le lascia il suo numero di telefono dicendole di contattarla in caso di bisogno. Ma Cinzia non sembra percepire la gravità della situazione. Al contrario è convinta di avere in mano le redini e di poterla gestire da sola. Dunque minimizza e riprende la solita quotidianità. Intanto Saverio consapevole dell'irrimediabile fallimento del rapporto con Cinzia compie un ultimo tentativo per salvare il suo matrimonio. Chiede a sua moglie se può tornare a casa ma Mina lo mette davanti a una scelta. Può tornare soltanto se molla Cinzia definitivamente o deve andarsene per sempre da casa. Saverio dice a Mina che vuole stare con lei ma ammette che se Cinzia lo richiamasse non sa come potrebbe reagire. Forse tornerebbe da lei. Dinanzi a questa risposta la moglie sigla irrevocabilmente la loro relazione con la parola basta. Inoltre in questo periodo Saverio ha problemi anche dal punto di vista economico. Nei pressi del suo negozio sono state avviate attività commerciali simili che gli sottrangolano una grossa fetta di clienti. Saverio usufruisce del recupero crediti richiede prestiti ai propri familiari e si ritrova con un ammontare di debiti dal valore di 200.000 euro. Ormai è sempre più convinto di aver perso tutto o di non avere più niente. Non ha più la sua famiglia non ha più i suoi buoni introiti lavorativi ma il contrario ha pochi soldi per cui inizia a non pagare più lo stipendio a Cinzia con cadenza mensile. È afflitto dal fallimento della sua attività e dall'indebitamento che in effetti implicano un forte crollo dell'autostima di un uomo e di un padre. Vorrebbe quantomeno riabilitare se stesso nella relazione con Cinzia. In altre parole la sua unica fonte di riscatto e dignità dinanzi alla moglie e ai figli dipende dalla ripresa di questa storia. Soltanto provando che era una relazione seria può dimostrare che non è stato uno sprovveduto che per di più viene anche lasciato. Questo obiettivo fa maturare in lui una rabbia ossessiva. È il 23 agosto del 2019. Cinzia trascorre la serata a casa con i suoi genitori. È un momento sereno e felice. La mattina del 24 agosto 2019 verso le 5.20 Cinzia è già fuori per una passeggiata con la cagnolina quando Saverio le manda un messaggio. Buongiorno ti voglio bene andiamo al mare? Cinzia accetta. Verso le 7 si reca il garage situato accanto alla bottega. La donna sa che Saverio in questo periodo è molto solo. Tra la situazione economica difficile e la chiusura della loro storia sta passando proprio un brutto momento. Però secondo quanto ricostruito durante il processo Saverio non ha trascorso la notte preoccupandosi per i suoi debiti bensì controllando tutti i profili social di Cinzia. Mentre la donna carica in macchina le sue cose per andare al mare gli chiede se possono rientrare al massimo per le 17 perché deve uscire con delle amiche. Saverio a questo punto vuole vedere il suo cellulare ma Cinzia gli dice di no lo insiste ma lei è irremovibile. Scoppia così una lite furiosa Saverio è convinto che Cinzia non abbia in programma di uscire con delle amiche ma con un uomo. Cinzia ribatte che a lui non deve interessare ciò che lei fa con gli altri loro due non stanno più insieme. In ogni caso quella sera la ragazza deve davvero incontrare delle amiche. Saverio ritiene che Cinzia stia mentendo perché ha trascorso tutta la notte ispezionando i suoi profili social e sa che c'è un uomo nella sua vita. Secondo lui la donna insiste tanto per tornare a casa prima perché in serata vuole uscire con lui perché ci tiene e per lei è importante. Saverio si allontana un attimo mentre Cinzia è ancora occupata a caricare le sue cose nel bagagliaio poi la colpisce alla testa da dietro utilizzando un mattarello preso dal garage. Dopo aver aggredito Cinzia che è ancora viva Saverio accende l'autoradio e ascolta quella che era la loro canzone preferita. Cinzia nel frattempo si lamenta allora l'uomo prende un fazzoletto e glielo infila nella bocca così da non sentirla più. In questo preciso istante Saverio vuole fingere che non sia successo nulla. Questo è un comportamento crudele che manifesta il suo desiderio che Cinzia morisse. Nel garage mentre Cinzia è a terra priva di sensi ma ancora viva Saverio si ripulisce eliminando ogni traccia di sangue. Sono ormai le 8 del mattino e l'uomo butta via i vestiti macchiati. Poi fa una telefonata a sua sorella non le racconta quello che ha fatto ma parla del tempo e dei suoi debiti. Subito dopo va in ufficio e cancella dal computer centinaia di cartelle contenenti le foto di Cinzia un gesto nel quale gli inquirenti leggono la volontà dell'eliminazione totale della vittima non soltanto fisica ma anche virtuale Saverio continua ad aggirarsi indisturbato nel luogo del delitto poi con lucidità e freddezza manda un messaggio a sua moglie le chiede perdono e le confessa di aver ucciso Cinzia la sua amante secondo la sentenza Saverio quella mattina inizia a progettare l'occultamento del cadavere fino a quando un fatto inaspettato lo distoglie dal suo intento davanti al garage passa per caso una pattuglia dei carabinieri l'uomo li chiama spaventato e crede che siano lì per lui braccato e in preda alla paura contatta il suo avvocato e confessa l'omicidio l'avvocato quando apprende che è già sopraggiunta una pattuglia di carabinieri dice a Saverio di avvicinarsi e confessare se non ci fosse stata quella pattuglia lì intorno probabilmente Saverio avrebbe occultato il corpo di Cinzia Saverio quando confessa l'omicidio alla polizia è in stato di agitazione Suda pronuncia delle frasi senza senso compiuto balbetta intanto arriva anche l'ambulanza gli operatori sanitari constatano che Cinzia è ancora viva e la portano velocemente al pronto soccorso mentre Saverio viene fermato e dichiarato in stato di arresto la donna arriva all'ospedale ormai in coma i medici provano a fare di tutto per salvarla ma le profonde ferite inferte dall'aggressore non le lasciano scampo durante il funerale le comunità di Riva del Po e Copparo si riuniscono nella chiesa di Santa Margherita a Cologna per rendere l'ultimo saluto a Cinzia Fusi il rito viene concelebrato da don Francesco Pio Morcavallo parroco di Cologna assistito da don Daniele Panzeri e da don Leonardo Bacelle don Morcavallo nel corso dell'Omelia ricorda che gli esseri umani siano assetati di amore e per la propria sete di amore Cinzia ha vissuto la storia con un uomo che l'ha condotta alla morte poi invita le comunità a stare accanto ai genitori e il parente di Cinzia in questo drammatico momento per il padre Roberto e la madre Maria Cinzia era tutto e oggi più che mai hanno bisogno che tutti stiano loro accanto prima delle esecue i sindaci Andrea Zamboni di Riva del Po e Fabrizio Pagnoni di Copparo oltre ai militari della compagnia dei carabinieri di Copparo stringono in un forte abbraccio Maria e Roberto rappresentando il cordoglio di tutti i cittadini dei due territori ancora scossi per quanto accaduto dopo le esecue e la salma della 34enne tra le lacrime dei presenti viene accompagnata verso il cimitero del paese per l'ultimo saluto anche se il ricordo della ragazza riservata gentile e altruista che era Cinzia rimarrà nel cuore di tanti per sempre per quanto concerne il suo assassino viene recuperato il mattarello usato come arma del delitto e vengono ascoltate molte persone informate sui fatti non emergono troppi dubbi sul movente tutto è scaturito dalla gelosia di Saverio Cervellati Saverio dunque viene sottoposto a diversi interrogatori ma racconta sempre una verità parziale dice che è Cinzia quella che l'ha aggredito col mattarello lui ha soltanto tentato di difendersi sostiene di aver avuto dei blackout per cui non ricorda esattamente come avesse colpito Cinzia quindi l'uomo non dà la possibilità agli inquirenti di ricostruire integralmente l'aggressione il pubblico ministero non riesce basandosi unicamente sulla confessione di Saverio a far luce su tre aspetti fondamentali il movente l'innesco dell'aggressione e la rispettiva modalità Saverio a detta del PM omettendo la verità nega alla vittima la dignità che deriva dallo stabilire il modo in cui le è stata tolta la vita gli uomini di fronte alla morte hanno sempre sentito il dovere di conferire alla persona defunta totale dignità sia attraverso una degna sepoltura sia ricostruendo gli ultimi attimi della sua vita Saverio poteva agire in questo senso ma non ha voluto l'uomo viene recluso nel carcere di Ferrara dove gli viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato in quanto commesso nei confronti di una persona alla quale era legato da una relazione affettiva e sentimentale il 24 luglio del 2020 il giudice dispone e rinvia giudizio nei confronti di Saverio Cervellati per l'omicidio di Cinzia Fusi il processo si svolge con rito ordinario accusa e difesa si battono sul tema delle attenuanti generiche che se riconosciute comporterebbero un possibile sconto della pena nella sentenza di primo grado il tribunale di Ferrara sostiene che Saverio non merita alcun attenuante per tre motivi il primo è che non ha mai fornito un'ampia e leale collaborazione il secondo è che non ha mai dato prova di aver capito l'estremo disvalore del fatto commesso il terzo è che non ha mai mostrato alcun segno di pentimento Saverio ha mentito su molti aspetti della vicenda allo scopo di mitigare le proprie responsabilità il 19 ottobre 2020 il tribunale lo condanna alla pena dell'ergastolo questa è la prima sentenza di femminicidio aggravato dalla relazione affettiva si tratta di una delle prime sentenze definitive di condanne all'ergastolo dopo la modifica normativa del codice rosso introdotta proprio nel 2019 con l'aggravante legata alla relazione affettiva tra omicida e vittima che è stata sufficiente per infliggere il massimo della pena prima della sentenza della cassazione i legali di cervellati hanno chiesto la riduzione della pena per attenuanti generiche legate proprio al rapporto sentimentale che avevano omicida e vittima ma la corte suprema ha rispinto l'appello nel 2022 la cassazione conferma in via definitiva la massima pena per saveri o cervellati cioè l'ergastolo detto questo io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso e soprattutto della sentenza io sono parecchio contenta di questa sentenza e voglio sapere anche la vostra opinione quindi come al solito ci becchiamo nei commenti qua sotto e nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti